Ciao, ti do il benvenuto al consiglio di appuntamento del mercoledì con l'analisi su il Dax e non sono ancora in formissima, l'ennesima colica renale ieri che mi ha portato a passare la notte per tutto soccorso però ho già fatto le due analisi che dovevo fare ieri e questa mattina e adesso faccio quelle della giornata il tutto ovviamente lo andremo a vedere dopo la sigla del canale, chiedo scusa ho sbagliato la bigliata di sfondo e andremo a vedere che cosa ci può aspettare per domani sul Dax ciclicamente sta seguendo perfettamente la previsione fatta nei giorni scorsi il rottore della trendline ha generato il segnale di ingresso è appena uscita la notizia che il regolatore svizzero parlerà a proposito di Credit Suisse non ho letto l'orario, non so quando, i mercati ovviamente hanno festeggiato con 230 punti di fiato long di Dax comunque andremo a vedere molti dei che cosa ci aspetta tutto ovviamente dopo la sigla mi raccomando non scappare breve comunicazione di servizio, sei la prima volta che mi stai guardando, io sono Paolo Pisino, ti do il benvenuto sul mio canale, sono un trader dal 2008 e da 7 anni la svolgo come unica attività, no dal 2007 e da 8 anni la svolgo come unica attività, sono un po' fuso, ho dormito veramente niente. mi puoi trovare sul sito www.tradinportutti.com dove ho riversato tutti i miei 15 anni di esperienza e potrei trovare una parte formativa con il corso di analisi ciclica io sono in assoluto tra i migliori analisti ciclici in Italia, l'unico ad avere creato un prodotto proprietario, un indicatore proprietario che è in grado di fare un'analisi nel passato di tutto ciò con la componente ciclica, calcolarne una media e proiettare nel futuro quindi permettendoti di sapere con ore, giorni, mesi di anticipo che cosa farà il mercato ossia che cosa vuol dire? sapere quando andare short, vendere i massimi assoluti e sapere quando andare long, ossia comprare i minimi assoluti ti invito ovviamente a visitare il sito, cliccare su registrati gratis al canale Tegra, riceverai analisi gratuite, potrai partecipare a un gruppo molto dinamico che parla tanto, scrive tanto, analisi, macroeconomia, tutto quanto, completamente gratuito e a prendere visione degli altri servizi, indicatore Voltime che è quello che vedi nelle mie analisi tutti i giorni se la prima volta che mi stai seguendo la vedrai tra pochissimi secondi andrai a vedere anche come funziona e che cos'è il mio indicatore Voltime per l'analisi ciclica. Risultati della sala segnali, o meglio del canale Telegram dei segnali intraday sugli indici intraday e multiday in realtà, il complessivo annuale, quindi 2023 da gennaio ad oggi siamo a 1234 punti sul Nasdaq, 180 punti di profitto sul DAX, un solo trade su il Dow Jones con 35 punti il mese di marzo, un mese negativo al momento con 86, è sbagliato, decisamente sbagliato, non l'ho aggiornato mannaggia di qua, no è giusto, no non l'ho aggiornato, lo vado a prendere qua, chiedo scusa come sempre io sono trasparente quindi non voglio far vedere cose che non sono quindi il mese di marzo è negativo, ma è negativo un po' più pesante perché sono a meno 409 punti sul DAX ho preso una bella scopola due giorni fa con un errore, nel senso sono entrato al mercato, ho tenuto l'opposizione non l'ho chiusa, il mercato è morto e il giorno in cui sono saliti tutti i mercati tranne il DAX per poi vedermelo ieri, recuperare tutto e sarebbe andato in super profitto, va bene, fa niente fa parte del lavoro e Nasdaq 127 punti, in questo momento è un'operazione aperta sul Nasdaq che sta perdendo 100 punti, operazione che porterò molto probabilmente in overnight per quanto riguarda invece l'epilogo annuale, il totale annuale, il DAX vede un complessivo di meno 114 punti e un profitto di 1.278 punti invece sul Nasdaq e come sempre 35 punti per quanto riguarda il Dow Jones, il totale comunque annuale al momento vede ancora 1.199 punti di profitto che resta un numero molto molto elevato, manca ancora a metà mese e ovviamente l'obiettivo è quello di portare il mese in pari, poi se ci sarà del profitto ancora meglio tanto di cappello. Andiamo a vedere la nostra analisi su il DAX Allora DAX, il picco del ciclo, lo vediamo in questo caso, eccoci qua, del ciclo 80 giorni che questo sinusoide è stato raggiunto, il mercato ha rotto la trendline del ciclo 80 giorni quindi la trendline che va a unire questi due minimi, che va ad unire, sposto questo qua va ad unire questo minimo di questo ciclo qui ecco scusa ho riacceso la lavagnetta, il minimo di questo ciclo che sarebbe questo e il minimo ovviamente di questo ciclo che nel mio caso sarebbe questo qua perché è il minimo più vicino al minimo del ciclo. La trendline è stata rotta generando il segnale di ribasso che vede l'opportunità di continuazione fino almeno al 29 di aprile per quanto riguarda il ciclo a 80 giorni che è questo, ma se andiamo ad aggiungere anche il ciclo a 40 giorni quindi l'onda composta va ad aggiungere alla sua formazione anche un ciclo da 40 giorni ecco che viene generato il primo minimo il primo di aprile e il secondo minimo rimane quello del 29 di aprile. la tendenza principale è importante quindi è anche molto facile da vedere in una fase ribassista che avrà il suo culmine come primo livello importante di tempo il 29 di aprile quindi manteniamo le opportunità di ingresso ribassista adesso il mercato si sta rimangiando un po' di candela si è già rimangiato circa il 30% c'è da augurarsi che non ci sia la solita porcheria quindi questa sera si rimangi tutto il movimento completo di ben 569 punti per una dichiarazione speriamo che ciò non avvenga il mercato si chiuderà sotto le medie e conformerà la fase ribassista e quindi si potranno andare a cercare ancora degli short questi sono i due target che avevo generato il primo target 14.682 e al momento è stato preso in piedi ossia era il movimento medio di un ciclo faccio vedere il movimento medio di ribasso di un ciclo a 40 giorni e il secondo livello di target è proiettato a 14.043 qui è dove io mi auspico che il mercato possa andare per poter eventualmente liquidare le operazioni a ribasso per chi ce le ha e poi cavalcare tutta una fase di possibile lateralità o perché no aspettarsi un ritracciamento di un ciclo un po' più piccolo come può essere un ciclo a 20 giorni in un ritracciamento poi poi riprendere la fase ribassista questa onda fatta così un po' schifosa ci fa capire che qua il mercato è stato in una condizione totalmente anomala infatti guardate il movimento ossia i cicli non erano sincronizzati erano cicli messi un po' sparsi tra di loro e hanno provocato ovviamente questo forte laterale per poi partire con un'esplosione a rialzo veramente fenomenale con questo direi che è tutto l'analisi durata a 7 minuti va più che bene quindi confermiamo operatività ribassista sì credenza ribassista sì quantomeno fino a fine di marzo e prima di aprile ti chiedo se vuoi se ti è piaciuta l'analisi di mettere un like sono analisi gratuite che fanno guadagnare anche dei bei soldi quelle che faccio tutti i giorni su youtube e l'unica paga che ti chiedo l'unico costo che ti chiedo è la fatica di premere un like fatica ovviamente è sarcasmo perché non costa nulla per me è molto importante invece perché aiuta il mio lavoro i miei sacrifici a far crescere il mio canale su youtube e a rendere il più possibile e disponibile a tutti questa metodologia il mio sistema il mio strumento e il mio canale telegram dove si cresce insieme utilizzando l'indicatore quindi la stessa identica metodologia una vera e propria community di traders gli unici traders in Italia e molto probabilmente nel mondo in grado di sapere con anticipo che cosa farà il mercato questo è tutto ti auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo aggiornamento sui DAX ciao ciao